Da qualche giorno sulla copertina di quattro ruote potete ammirare la supercar Made in Parma. Infatti la seconda posizione più importante della copertina è destinata alla supercar prodotta proprio nel Parmense, in Valceno. È nata a Varano-Melegari e viene costruita lì questa meraviglia su quattro ruote. L'occasione di questo articolo nasce dalla prova che ha fatto il giornalista Marco Pascali, usandola dalla stradale dal Parmense sino alla Puglia. Al suo fianco un navigatore d'eccezione, l'amministratore delegato della Dallara Automobili, Andrea Pontremoli. Particolarmente belle e significative alcune frasi dell'articolo. Alcune delle parole del giornalista le vogliamo sottolineare per far capire quanto sia stato apprezzato questo gioiello della meccanica. Queste le sue parole. Un modello già destinato alla leggenda, che sottende il viaggio per il viaggio, cioè la passione per poter viaggiare più che per arrivare a destinazione. Guida e potenzialità non sono normali, rende uniche le percorrenze di ogni curva. Sensazioni di sicurezza e tenuta finora sperimentabili solo nel motorsport. Quando Pontremoli spiega al giornalista la filosofia che sottende alla macchina, dice che l'ingegner Dallara ha detto al designer Lovi Non voglio spigoli ma curve. Le curve restano nel tempo, mentre lo spigolo invecchia velocemente. Altre affermazioni del giornalista sono Le sospensioni sono così incredibili, sia per il modo in cui bevono le buche, sia per la qualità dell'incasso sulle sconnessioni. Scendendo, sformigliando con le gambe dall'abitacolo, scopro che sono leggere. Io stesso mi sento leggero ed eccitato. Questa macchina stimola le ghiandole surrenali, come poche altre, persino in autostrada. Affrontare le stesse curve che in passato hai percorso con altre supercar e accoggerti che con la stradale le fai in scioltezza e a una velocità nettamente superiore è impressionante. È davvero un'auto da corsa rimodellata per l'utilizzo quotidiano. Un salto in un'altra dimensione della guida. Quando affronti certe curve, pare che una forza terza ti metta una mano sulla carrozzeria per portarti dentro alla curva e prendersi cura di te. Ma le parole più belle sono quelle del finale. La dall'ara stradale è un cambio di paradigma per le quattro ruote da divertimento. Dopo le supercar, quel foreclasse di dall'ara ha regalato al mondo nuove dimensioni. Quella dell'olfatto e del downforce. Robe da intenditori. Cara stradale, sei una grandissima aerocar. Segnatevi questo termine, non esiste. Come una manciata di mesi fa, non esisteva quest'auto. Insomma, un articolo che non orgoglisce perché grazie a articoli come questo ci si può sentire onorati della propria terra. Ci si sente fieri di essere parmensi perché anche noi siamo nel nostro piccolo made in Parma come la dall'ara stradale. Grazie. Grazie. Grazie.